Comunque credimi, sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia sia positivi, perché ce ne sono stati tutti, più positivi chiaramente, ma anche negativi come magari, tu mi dici no, la novità, ma tu dico, la novità, l'angeline, tranquillo La mia aveva l'orto del giardino e la casa di me se mi sceglieva Non credo che si buttasse in terra, perché la mia si è chiesto Non è, andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.